bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video sempre a tema di halloween esatto ragazzi benvenuti a tutti al video dedicato al nuovo codice di water che è uscito fresco 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 e dicono che sia sugoso su gozo no ragazzi l'abbiamo saputo da pochissimo sempre dal nostro amico codin che ringrazio tantissimo per darmi questi codici pop pop più os della mitraglietta ragazzi la nuova e leggendaria è qui come vedete dietro di me sbagliato su speculare dietro di me è il nuovo zombo ragazzi che sembrerebbe un oggi praticamente versione zombie è arrivato non sappiamo bene a proletta sarà in un forziere limitato eccolo qua il forziere rob zombo e grande per rob zombie così glielo fanno 49 e 99 ti danno 20 eroi leggendari sono un pochettino adesso esagerati nel richiedere 50 euro ragazzi siamo come vedete sempre sul nostro profilo principale ma nel livello cioè nella prima nella prima parte e quindi amore mio sai già che cosa gli darà questo codice qualcosa che risorse darà ai nostri ragazzi soldini e gemmine ha proprio ragione la pavina ragazzi ha proprio ragione oggi versione strega e vi ricordo anche che il 31 ad halloween ci avremo la live molto tutto a tema tutto a tema però non siamo qua a perderci in sacchi di zucche di caramelle direi che tu gli devi spiegare dove devono andare dovete calcare sul vostro livello di gioco come mai non ho detto numerino oggi è che sono stata pur poi un palazzo e guardate sul codice promozionale e cliccate e prima cosa dovete fare mi raccomando mettere un bel like se vi sta piacendo il nostro video e iscrivetevi al canale guardi come la maestro io è proprio la catanella la campanella per ricevere l'ordine che non mi stai spiegando tutto brava 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 ragazzi avete già capito tutto un bel like una bella iscrizione e andiamo a inserirlo andiamo a inserirlo halloween da stig halloween istiglio andiamo a fare il mio andiamo a fare il mio codice e poi mille di gold e 50 gemme sono veramente delle risorse importantissime soprattutto in questi giorni che stanno uscendo uno sbrego di codici ragazzi mi raccomando non perdete l'occasione di inserirlo anche perché i codici dopo una settimana li chiudono beh ragazzi fatemi dare un'occhiata 557 gemmine intanto andiamo a raccogliere anche le altre 50 gemmine 607 gemmine andiamo a aprire allora un cestino 30 un gola sguardiano 6 ralf e 3 fulminozi ma quello che mi preme amore mio è quasi quasi è quasi abbiamo perso non ce l'abbiamo più peccato pensavo di avere ancora l'offerta per prendere la skin unica del di halloween va bene ragazzi noi vi ringraziamo tantissimo per avere guardato questo video e noi ci vediamo prestissimo ciao 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 ciao